Gino, ma che stai facendo ? Una respirazione, yogurt. Ma che stai facendo la respirazione ? La prossima volta che mi lievo la bambolotta coppolietta, ti straccio la capa ! E' questa schifezza, non ne voglio più, coppolietta mia ! Guarda che se mi stracci i blu cerchiotti, ti spacco la foccia, sai ? Oddio, 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 oddio ! E' piena colazione ! E' rosa, e' rosa di nuovo ! Questo bambolotta mi fa schifo a me ! E' che guai che hai già passato a presso a te ! E' come ti hai già accostato ? E' come dico io che così ti alzi ! Ma hai una coscienza che ti ha giocato, capite ? Hai già passato a Huawei ! Non ce la faccio più a presso a te ! E' impara a parlare italiano ! Terroni, hai vent'anni che vivi qui ! E' ci vuole l'interprete dei sottotitoli per capirti ! Ah, ci vuole l'interprete dei sottotitoli ? E allora quando te lo dico in italiana e' spile del vecchio ! Oggi scade la rata della televisione ! La rata delle frigideri ! La rata dell'enciclopedia ! La rata delle tazze ! La rata delle mobilette ! La rata dello scaldabagno ! La rata del gas ! La rata dell'acqua ! La rata dei mobili ! La rata delle pendos ! La rata della rata ! La rata dei tassi !